segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te augusto ma guarda intanto nel senso l'esperienza che abbiamo avuto dell'agenda traghia è quella che a sentire la meloni era un'agenda che poi non era tanto precisa visto che secondo la meloni sono 30 progetti ancora rimasti in aria che non sono che quindi bisogna recuperare tempo per tempo perduto bisogna più che altro cioè andare avanti e cercare diciamo di essere al passo con le richieste che ci venivano da parte dell'europa ma a parte ciò io credo che da questo punto di vista c'è un problema di fondo la situazione estremamente complicata per cui mettere insieme da una parte l'identità e anche diciamo quello che è stato fatto il tipo di politica che ha fatto la meloni e rispetto all'ultimo anno in cui è stata all'opposizione ed è stato l'elemento che l'ha portata diciamo a vincere le elezioni in unica forza nel rispetto al governo draghi con il tipo di elettorato che quindi lei ha raccolto è abbastanza complicato e quindi chiaramente questo qui è un uno strumento per tentare diciamo di mettere insieme due esigenze che sono abbastanza complicate da coniugare detto questo secondo me il fatto che ci sia un rapporto diretto da parte del premier con l'opinione pubblica che la parte nei confronti dei cittadini è sempre un elemento positivo perché capisco la mediazione dei media però è anche vero che da quel punto di vista avere un rapporto diretto è una cosa che per sempre è stata ricercata spesso spesso specie diciamo da dalle leadership e populiste e mi sembra che fa parte diciamo di una tradizione e io non penso che sia positivo non ho nulla da criticare in proposito insomma sì sì ci si rivolge più direttamente ai propri elettori peraltro io continuo a pensare che c'è anche un elemento di avere alleati che parlano tanto che dicono molto la loro quindi secondo me lei ha anche bisogno un po di puntualizzare di dire la sua in questa fase devo dirvi che mi ha